La tematica delle strade è una tematica complessa che ha una ricaduta importante sulla vivibilità del nostro territorio e sulla nostra città. Il nostro territorio è estremamente esteso, parliamo di 125 km2 che ha Cerveteri con oltre 350 km di strade comunali. A queste si sommano strade che non sono ancora di nostre proprietà, strade Arsial, strade che attraversano il nostro territorio che appartengono alla città metropolitana e quindi la difficoltà di gestire tutte queste strade, di gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria che richiede investimenti importantissimi. Noi stiamo cercando di reperire fondi per intervenire sugli asfalti in modo importante perché è evidente che col bilancio comunale non si riescono a coprire milioni e milioni di euro di interventi ma abbiamo bisogno di essere supportati dalla regione, dalla città metropolitana per gli interventi che può fare. Negli scorsi giorni avete visto c'è stata una vicenda legata alla velocità imposta sulle strade della città metropolitana che era addirittura passata a 30 km orari da 70 km che erano prima, penso alla Bracianense, penso alla Doganale. Questa imposizione è arrivata dalla città metropolitana proprio perché le strade sono così ammalorate che si sono verificati degli incidenti importanti e quindi hanno portato a questo abbassamento che noi abbiamo però chiesto di riportare almeno nei tratti più sicuri a 50 km perché immaginate percorrere km e km di strada a 30 all'ora non era possibile, impattava anche sugli scuolabus, sui mezzi di trasporto pubblici. Quindi abbiamo trovato questi interventi ma soprattutto abbiamo chiesto di intervenire sugli asfalti e verranno fatti degli interventi di rifacimento totale degli asfalti sia sulla Doganale sia sulla Bracianense. Questo grazie anche a dei fondi che arriveranno sul nostro territorio dedicati proprio al grande evento del 2025, quindi giubileo. In preparazione del giubileo per fortuna la Regione ha pensato di stanziare dei fondi per mettere in sicurezza le strade che portano a Roma.